In onda fra 3, 2, 1, vai sei in diretta! Moglia ricca e divorziata muore, trovata morta al fianco di un letto con notazione a caffè, un cucchiaino ed un vassoio quasi vuoto con dei pasticcini. Possedeva azienda farmaceutica, porta libido sulla fronte. Ora decesso 23.15, presunta causa ferita la testa con d'arma contundente, trauma cranco. Per ora da Rodingo è tutto.